venerdì 11 agosto buongiorno e ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di fano tv andiamo subito a vedere chi festeggiamo oggi oggi festeggiamo santa chiara d'assisi l'undici agosto la chiesa ricorda santa chiara d'assisi vergine del tredicesimo secolo fondatrice delle clarisse appena diciottenne nella disapprovazione della famiglia paterna seguì francesco abbandonando ogni ricchezza e dedicandosi totalmente alla preghiera santa chiara d'assisi è la patrona della televisione ed è andiamo a vedere la situazione del tempo sono bellissime giornate quelle che si sta stanno trascorrendo sulla nostra regione la situazione a un tempo stabile con cielo sereno e al poco poco più nuvoloso temperature stazionarie siamo massime sui 28 32 gradi abbiamo una previsione di weekend molto bello con sabato domenica con una minima di 19 e una massima che domenica arriverà a 30 gradi oggi il sole è sorto alle 6 e 06 e tramonterà alle 20 e 17 e come sempre andiamo a collegarci a poco un porto nuovo dove c'è il nostro edoardo che ci sta aspettando con questi sempre questi panorami spettacolari edoardo buongiorno 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 a voi certo dopo aver visto una cosa del genere guardatemi quanto sono brutto è un po' un trauma però non è vero edoardo assolutamente assolutamente il posto è sicuramente spettacolare è quell'acqua così così verde così trasparente che ci arriva veramente acqua molto bella questa mattina ancora è tranquillo c'è pochissime persone la quiete molto bella oggi come come du dicevi stata la notte di san lorenzo dove tanti ragazzi hanno hanno fatto la nottata per le stelle poi è divertente perché sono pieni di entusiasmo questi ragazzini perché sono molti ragazzini che vengono a fare la nottata poi stamattina li vedi che sono proprio distrutti perché qui alla sera è freddo perciò non vedo l'ora di andare di nuovo a dormire in un bel letto caldo no? ma arrivano non arrivano tutti attrezzati di coperte perché alla fine non è mai successo che ne hai trovato qualcuno lì la mattina che dormiva beatamente ma si tutti un po' spiaggiati sai fanno un po' i vitelloni capito con questi ragazzetti tutti aperto nudo poi arriva alla sera si coprono tutti un freddo sai è così dai esatto senti edoardo oggi è una giornata un po' particolare per la cronaca ci sono stati moltissimi malori ne parlavamo appunto di questa cosa ma quali sono i rischi com'è che il turista si mette a rischio anche eventualmente di avere appunto dei malori o di farsi del male cosa succede al turista in questo caso? ma io allora intanto dire io 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 in senso comando una squadra di soccorso a Porto Novo diciamo così della società nazionale di salvamento dove noi siamo pronti ad uscire alla chiamata della guardia costiera del 118 questo periodo ci sono stati tanti tanti purtroppo atti di cronaca che dicono che comunque tante persone vanno a rischiare la propria vita anche la propria incolumità e soprattutto anche quella dei soccoritori andando in delle zone impervie dove non si può andare anche ieri all'altro ieri abbiamo fatto un intervento importante dove un signore purtroppo è caduto in un crepaccio in una zona impervia ecco è sempre difficile ieri lo stesso qui alle due sorelle 5 o 6 ragazzi si sono arrampicati in una zona dove non dovevano andare e hanno rischiato anche loro di essere diciamo così in pericolo in pericolo a piedi nudi scalavano un pezzo di falesia un grande uomo di mare mi ha telefonato all'ertato la guardia costiera che credo che sia scesa a vedere un attimo la situazione insomma io credo che in questo momento insomma ci sono tanti posti meravigliosi è inutile andare a cercare i giorni che ne sono pari andare a rischiare la propria incolumità e quella magari dei soccorritori stessi che vanno e si prodigano per poterli aiutare insomma è una regola importante ci sono imbarcazioni che a volte vengono anche troppo a terra insomma secondo me c'è la maniera più serena e più tranquilla di trascorrere le vacanze senza andare ad avventurarsi in tante cose così brutte insomma aiutateci a farvi trascorrere delle vacanze serene senza andare diciamo così a rischiare la propria vita e quella di altre persone questa è una cosa importante anche c'è anche il discorso dei tuffi che la gente va a tuffarsi in punti dove poi l'acqua magari non è abbastanza alta o sotto ci sono degli scogli anche quello è un altro pericolo grosso a cui bisogna stare molto attenti ma sì ci sono dei punti anche molto belli dove la gente vanno a fare i tuffi ma ecco anche lì la conoscenza del posto è determinante per non mettere a repentaglio la propria vita però ecco ti ripeto la gogliardia la voglia di divertirsi certo meraviglia di questo mare tante cose fanno sì che magari ecco si pensa un attimino a quello che è la sicurezza la sicurezza ti ricordi un'altra mattina che c'era quel ragazzo da solo? sì che c'era l'unico cliente eccolo qui guarda sta passando eccolo con la canoa lo vediamo adesso dov'è? sì sì è dietro la tua testa eccolo lì ok fantastico Edoardo saluta le marche saluta le marche a posto Edoardo noi ti salutiamo abbiamo una rassegna stampa un po' corposa questa mattina noi ci vediamo domani è assolutamente domani mattina sempre alle 7 e naturalmente ti auguriamo una bellissima giornata ma da qualche vediamo lo sarà sicuramente senti una buona giornata tutti voi a tutte le marche ci vediamo domani mattina grazie grazie Edoardo grazie mille ciao buona giornata a voi buona giornata a te bene abbiamo infatti una rassegna stampa abbastanza corposa questa mattina partiamo direi subito immediatamente con il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico in prima pagina a Pesaro non tagliateci parcheggi nuova ciclabile i commercianti di via De Gasperi chiedono un incontro al comune per la soluzione a Baia Flaminia proteste per le multe i titolari delle attività ma nessuno rispetta il disco orario e poi ancora 20.000 candele nella notte oltre 7 km di litorale illuminato ed ancora le brevi di crona che sono tutte su Pesaro la politica in lutto per la scomparsa di Roberto Biagiotti morte e spiaggia la scoperta shock vicino a uno scoglio ne abbiamo appena parlato con Edoardo ed ancora Marche ecco la nuova legge sull'urbanistica il mattone è green in fondo pagina donna trovata senza vita nell'abitazione di un amico forse overdose ma è ancora un mistero la procura ha disposto per oggi l'autopsia prima di andare a vedere le pagine di Pesaro andiamo subito immediatamente alle pagine invece della nostra città andiamo a vedere quali sono le prime notizie di Fano errore incuria così la scogliera si mangia la spiaggia Garofali gestisce l'unico stabilimento che ospita i cani e denuncia così una situazione insostenibile a Islamorada Dog Beach si rischia di mandare a monte tutta la stagione larga appena 30 metri sul fronte mare più 15 ottenuti nel periodo del covid consente però a tutti i turisti che frequentano il litorale a sud del fiume Metauro di trascorrere una vacanza in compagnia dei loro cani questa è una spiaggia dedicata ai cani invece sta diventando un grosso problema per tutto lo stabilimento che conta soltanto 50 ombrelloni divisi in 4 file e questo a causa dell'erosione marina quest'anno l'acqua è avanzata tanto che si è dovuta sacrificare la prima fila di 15 ombrelloni ma nei giorni di cattivo tempo diventa inutilizzabile anche la seconda fila che comporta il sacrificio quindi di attrezzature il fatto è che la piccola spiaggia di Islamorada risulta la più colpita da tutto il ritorale sud fanese torna dopo 4 anni la festa del mare a Ponte Sasso al lavoro oltre 70 volontari menù di pesce e musica per la storica Kermess anche Ponte Sasso ha la sua festa del mare da ieri a domenica facendone la maggiore iniziativa data azione della frazione grazie all'incasso ottenuto dalla festa del mare infatti l'unione sportiva di Ponte Sasso presieduta da Renato Simoncelli finanzia le sue attività sportive e sociali facendo del centro intestato a Giancarlo Santinello un luogo dove si educa la gioventù e ci si prende cura dei disabili sempre a Fano un'assoluta novità per la sanità eseguito il primo prelievo di organi da una donna donatrice volontaria aveva 65 anni e la dichiarazione nella carta d'identità ha donato corne, reni, fegato e hanno salvato altre vite prelievo multiorgano ieri nell'ospedale di Santa Croce a Fano su una paziente che aveva dato il proprio assenso alla donazione al momento di rinnovare la sua carta di identità è successo appunto la signora della provincia di Pesaro le procedure per il prelievo di fegato, reni e corne sono state concluse nella mattina di ieri le corne sono state destinate alla banca di Fabriano, il fegato ad Ancona e i reni a Brescia e parliamo di carnevalesca parliamo di carnevalesca, riconoscimento, arte e creatività nelle scuole carnevalesca accreditate al ministero dell'istruzione a valore al ruolo di formazione dell'ente anche la carnevalesca figura ora nell'elenco dei soggetti accreditati dal ministero dell'istruzione all'interno del sistema istitutivo per promuovere arte e creatività nelle scuole torniamo in prima pagina, passiamo sempre, siamo sempre sul Corriere Adriatico restiamo a Pesaro restiamo a Pesaro è morto Biagiotti la politica sotto shock Ricci, oggi siamo tutti senza parole l'avvocato e consigliere comunale avrebbe compiuto 41 anni il 3 novembre è un dolore trasversale è morto Roberto Biagiotti 40 anni avvocato storico consigliere da circa un anno nel gruppo misto di maggioranza lascia la moglie, sposata poche settimane fa e un bambino di soli due anni appassionato di equitazione e della natura Biagiotti ha combattuto fino all'ultimo minuto con una malattia velocissima che non gli ha dato scampo ed ancora le 20.000 candele sotto le stelle il vento non spegne le feste delle luci oltre 7 chilometri di litorale illuminato in 80 stabilimenti e il sindaco dichiara siamo più di 50.000 passiamo ad Urbino rapina in villa trovata la Mercedes utilizzata dai malviventi per la fuga la vettura appartiene agli imprenditori rossi rinvenuta a Villa Fastigi è stata sequestrata la caccia ai malvimenti di Ferminiano è arrivata ad una svolta ritrovata nei pressi di Villa Fastigi a Pesaro l'auto usata dai banditi nella fuga dalla villetta della famiglia Rossi ubicata in località Casino Lazzari popolarmente chiamata Dolcino i carabinieri hanno ritrovato l'auto abbandonata dai rapinatori in fuga dopo il colpo nella Casa Rossi ed ancora la festa del Duca d'Urbino diventa uno spettacolo si parte oggi con il premio a Dilvo Diamanti poi via alle giostre e alle sfide passiamo alle notizie che riguardano la Val Metauro trovata senza vita in casa di un amico forse un'overdose ma è ancora mistero Martina Bianchi 37 anni era in cucina oggi l'autopsia l'uomo sentito a lungo dai carabinieri l'ha trovata un amico ieri mattina intorno alle 8 riversa sul pavimento della cucina di casa dove Martina Carlotta Bianchi 37 anni di Fossombrone era ospite da un paio di giorni ha eseguito i primi tentativi di rianimazione su indicazione naturalmente degli operatori del 118 ma l'amico si è subito reso conto che non c'era più nulla da fare infatti quando sono arrivati i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che decretarne la morte secondo il medico legale la morte è avvenuta per un arresto cardiocircolatorio probabilmente causato da un'overdose di farmaci e di droga il 42enne è stato condotto nella caserma dei carabinieri di Fossombrone per essere ascoltato e raccontare i fatti che sono accaduti ci spostiamo in Val Cesano Biancani chiede scusa adesso deve dimettersi riprendiamo l'articolo che abbiamo visto ieri mattina nella nostra rassegna stampa a Pergola i chirurghi giocano a carte le frasi dei Biancani diventano un caso le parole sui chirurghi dell'ospedale di Pergola si scatena la Lega Marche Autorimbarza tra i New Jersey è grave il conducente è successo a Marotta gli incidenti in autostrada i medici si calano con il verricello per soccorrerlo passiamo a Senigallia quanto dolore per la morte di Luca mancheranno i tuoi occhi azzurri il cordoglio shock scontro shock in moto gli amici di Fior del Mondo sergente di ferro in campo sorridente fuori stiamo parlando di Luca Fior del Mondo il 52enne di Montemarciano deceduto dopo un drammatico incidente a Castelfidardo mercoledì nell'incrocio maledetto tra via Marx e via Bramante ed ancora un altro drammatico caso a Senigallia stroncato da malore dopo pranzo crolla a terra in spiaggia e muore shock allo stabilimento Mai Tai per la tragedia di un turista disabile che di spiacere gli volevamo bene stava tornando verso il suo ombrellone il 62enne turista che è morto ieri a Senigallia dopo essere stato colto da un malore immediatamente sono stati chiamati soccorsi e sono giunti sul posto una pattuglia dei carabinieri di Senigallia il 118 con gli opinatori sanitari e un'ambulanza nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimare l'uomo che si sono protratti per lungo tempo pensate 45 minuti per cercare di rianimarlo purtroppo non c'è stato nulla da fare per il disabile bresciano chiudiamo il corriere adriatico e diamo anche uno sguardo alla rassegna stampa del resto del Carlino titolo primo titolo di prima pagina trovata morte in casa dell'amico Sant'Ippolito mistero sul decesso di una 37enne avevano passato alla serata insieme ma lui non è indagato abbiamo trovato lo stesso articolo sul corriere adriatico il caso il mio tumore pesava 3 chili e in Inghilterra non l'hanno visto una 54enne salvata grazie all'Italia a Baia Famigna cadaveri spiaggia era madre di 4 figli questa stamattina abbiamo una rassegna stampa molto tragica per quanto riguarda malori morti piuttosto che spiagge incidenti e poi ancora Cordoglio in città per Roberto Biagiotti addio a Biagio ucciso dal tumore dell'amianto aveva 40 anni lascia moglie e un figlio funerale in Duomo col picchetto militare trovata in casa senza vita l'ultima notte di Martina tra le ipotesi l'overdose anche qui è un titolo piuttosto importante Sant'Ippolito la tragedia nell'abitazione dell'amico che ha dato l'allarme la vittima 30 settembre era di Fossombrone sequestrato il cellulare dell'uomo si chiamava Paola Panteghini si indaga ancora sul decesso Baia una cinquantenne cadavere vicino alla riva è la madre di quattro figli l'ha trovata alle 4 dell'altra mattina un operatore ecologico che stava pulendo la spiaggia a Baia Flaminia nel tratto dietro Pavarotti ha visto il corpo che galleggiava nel mare un metro dalla battigia è corso a tirarla fuori dall'acqua ma non c'era ormai più niente da fare si chiamava Paola Panteghini aveva cinquant'anni ed era mamma di quattro figli una morte che non è ancora del tutto chiara la procura ha infatti disposto per questa mattina l'autopsia ed ancora l'addio a Biagiotti Biagiotti la grinta fino all'ultimo amava gli animali e la sua città il consigliere provinciale ucciso a quarant'anni dal tumore dell'ammianto lui si chiedeva come l'avesse preso e passiamo alle notizie che riguardano Fano e qua ci siamo di nuovo con l'inchiesta sul turismo il turismo piange anche qui siamo a meno 30% il presidente della Federalberghi Provinciali Luciano Cecchini un disastro per tutte le località di mare le nostre non fanno eccezione calo del 30% pensate dei turisti a Fano in linea comunque con il dato nazionale la conferma arriva dal presidente della Federalberghi Provinciale Luciano Cecchini un disastro per tutte le località di mare italiane quelle della nostra provincia non fanno eccezione la settimana dopo ferragosto sarà una voragine con un ulteriore calo di presenze che potrebbe raggiungere il 40% e tutti si chiedono ma come mai c'è stato questo calo di turismo fondamentalmente Fano è una città splendida per quanto riguarda eventi manifestazioni c'è una proposta amplissima per quanto riguarda appunto anche il divertimento e purtroppo dall'alluvione ricorda Cecchini c'è stato un trend di annullamenti ma rimane il fatto che molti italiani dopo l'aumento dei tassi di interesse non hanno più soldi da spendere all'Adriatico nell'Adriatico in molti hanno preferito scusate all'Adriatico in molti hanno preferito l'Albania dove i costi sembrano più convenienti dall'alluvione c'è stato un trend di annullamenti e i soldi sono finiti ed ancora paura in A14 tra Marotta e Fano collisione tra auto grave 46enne abbiamo ritrovato lo stesso articolo anche sul Corriere Adriatico Degrado in Sassonia Sud nasce un nuovo comitato abbandono verde incolto e canneti ridotti a latrine a cielo aperto in città sorge l'ennesimo schieramento che chiede la riqualificazione contro l'abbandono e il degrado del quartiere che si sviluppa tra Via Ruggera Baia Metauro è nato il comitato cittadino per la nuova Sassonia Sud uno degli obiettivi è costruire il sottopasso ferroviario di Via Bersaglio atteso da 40 anni ed ancora a Santa Croce prelievo multi organo su una 65enne crescono le donazioni siamo in Valcesano Pannelli anche Colli al Metauro lancia l'allarme il sindaco Pietro Briganti sono già arrivate sei istanze per la costruzione per un totale di 25 ettaro di suolo siamo fermamente preoccupati anche dall'esecutivo di Colli al Metauro dopo la denuncia fatta ieri su queste colonne dal primo cittadino di San Lorenzo dell'Onti si alza forte l'allarme contro il proliferare di domande per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra senza che i comuni possano opporsi la battaglia ci siamo già attivate per tutelare il nostro territorio e i cittadini ora auspichiamo un'azione congiunta a tutti ci spostiamo a Durbino siamo sempre sul resto del Carlino prima notizia Ateneo dal Ministero 14 milioni per l'edilizia Urbino si piazza al quarto posto nazionale per la qualità dei progetti e ottiene uno dei migliori finanziamenti statali il Ministero dell'Università e della Ricerca finanzierà con oltre 14 milioni di euro il completamento della riqualificazione del campus scientifico Enrico Mattei nella zona ex Sogesta e la costruzione di nuove aule nell'area ex Petriccio condotti dell'Ateneo Carlo Bo i fondi sono stati ottenuti dall'Università di Urbino tramite un bando edilizia 2022 presentando un programma unitario per la realizzazione di due progetti finalizzati a dare maggiore funzionalità e recuperare o sviluppare strutture disponibile per le attività istituzionali abbiamo chiuso anche la rassegna stampa del resto del Carlino io vorrei come sempre dare una notizia per quanto riguarda un consiglio per andare per passare una bella serata a fanno alla ex chiesa di San Francesco consigliamo la canzone di Giasone e Medea con Bucci Sgrosso e Mattatori Elena Bucci e Marco Sgrosso con le belle bandiere compagnia storica della ricerca teatrale italiana da loro fondata portano in scena domani sabato 12 agosto alle ore 21 e 30 nella ex chiesa di San Francesco a Fano la canzone di Giasone e Medea da Uripide a Seneca un lavoro che indaga le molte versioni di una stessa storia e le ragioni dei diversi personaggi concludiamo oggi la nostra rassegna stampa abbiamo visto tutte le notizie io vi ringrazio di essere stati con noi e vi rimando all'appuntamento con l'informazione di questa sera alle 20 e 30 restate con noi e seguite Fano TV grazie e buona giornata grazie a tutti